Leonardo Silva Revisore Scotland Forever Fu questo il grido di battaglia dei soldati scozzesi lanciandosi al galoppo verso le linee francesi durante la battaglia di Waterloo nel 1815. Ed è il titolo di questo quadro che fu dipinto da Lady Butler circa 70 anni dopo, nel 1881. Lady Butler, come donna, non ebbe mai modo di partecipare ad una battaglia quindi dovette studiare, dovette documentarsi, dovette fare ricerca perché doveva poter rappresentare le divise dei soldati che corrispondessero a quelle dell'epoca. Dovete studiare l'anatomia degli animali, dei cavalli, in modo da poterli rappresentare con questo visuale molto particolare dal davanti, molto originale. grazie al mio lavoro ho avuto la possibilità di rendere omaggio a questa immagine, probabilmente la più particolare e celebrata di quell'evento e che tanto mi ha emozionato sin da quando ero ragazzino. Come si diceva, sono un paleoillustratore, ossia un illustratore di quelli che si occupano di paleontologia, cioè cercano attraverso lo studio dei fossili di rappresentare il mondo della preistoria. Come ogni artista, l'illustratore paleontologico ha sempre un po' la testa tra le nuvole, nuvole giurassiche, devoniane nel mio caso. Se mi piace la natura, ne sono affascinato, mi stimola, mi dà tanti spunti per realizzare le immagini che vedrete. Però, inevitabilmente, ogni volta che a me capita di osservare qualche cosa di naturale, tendo inevitabilmente a trasformarlo in qualcosa di preistorico. quando io cammino su un bel prato rasato e mi trovo davanti una quersia, ecco, immediatamente tendo a trasformarla in una specie di albero gigantesco dalle forme particolari, dall'aspetto inusuale, alieno. il prato ovviamente diventa una distesa quitrinosa, ricca di alberi caduti, di vegetazione rigogliosa. I cani che stanno correndo davanti a me possono tranquillamente essere dei piccoli carnivori che si stanno inseguendo, che si stanno contendendo la preda, oppure sopra di me passano i lunghi colli dei sauropodi che brucano a dieci metri da terra. E dietro il cespuglio che si è mosso poco fa, secondo me c'è sicuramente qualche grosso animale che sicuramente può saltare fuori un carnivoro aggressivo. Il fatto è che nella mia testa io continuo a cercare di risolvere il problema che riguarda l'illustrazione che sto cercando di realizzare in questi giorni. Ho studiato molto bene il soggetto protagonista del quale ovviamente non ricordo assolutamente il nome e che confondo con un altro che ha anche lui un nome assolutamente impronunciabile. Ecco, me lo sono studiato bene anatomicamente però non mi piace la postura che gli ho dato e per rappresentare meglio l'immagine sarebbe meglio che io lo inquadrassi dall'alto in modo tale da avere una visione precisa e completa di tutto il paesaggio. e dovrò però spostare l'allosauro tutto su un lato in modo da rendere più equilibrata l'immagine e poter avere una visuale completa dello scenario. Il fatto è che io devo avere a che fare con i paleontologi. I paleontologi e i geologi sono i miei compagni di viaggio, sono coloro che mi supervisionano, quelli che mi danno tutte le informazioni e le indicazioni che mi permettono di realizzare l'illustrazione arrivando a curare i minimi dettagli anatomici. Contemporaneamente però sono anche coloro che tendono a imbrigliarmi, a incanalarmi in uno strettissimo corridoio artistico che serve ad evitare che il sottoscritto preso dallo slancio e dal desiderio di rendere sempre più emozionante e più particolare l'inquadratura rischi di esagerare e metta i soggetti in posizioni tali per cui risulterebbero poi anatomicamente impossibili. È una specie di CSI in chiave paleontologica. Io ho tutti gli elementi che mi servono per fare la mia ricerca, ho tutti gli indizi. Ho gli schizzi, i disegni fatti da chi mi ha preceduto, le indicazioni che mi vengono date da paleontologi e geologi i quali nella loro testa hanno chiarissimo com'era il mondo preistorico perché lo studiano, il problema loro è quello di renderlo visibile e quindi il mio compito è proprio quello di cercare di scattare una sorta di istantanea del passato profondo. È un lavoro in continua evoluzione. Può capitare che l'animale che tu hai con tanta attenzione studiato, l'edmontosauro, a cui hai curato ogni minimo dettaglio e persino la pelle di cui si conoscono le impronte, ecco, salti fuori proprio il giorno prima che tu stai per consegnare il tuo lavoro, succede che esce uno studio che mette in luce un dettaglio anatomico veramente insignificante che è una cresta carnosa proprio in mezzo alla fronte del nostro soggetto. Quindi sarà mia premura quella di cercare di aggiornare questo animale alla velocità della luce. Stessa cosa può succedere per esempio per un animale come può essere il tirannosauro. I tirannosauri sono tra gli animali preistorici tra i più conosciuti in assoluto nel campo della paleontologia. Ecco, da qualche tempo i paleontologi sono praticamente convinti che i tirannosauri fossero coperti da una sorta di piumaggio primitivo che si chiamano portopiume, quindi una specie di soffice piumino, il che ovviamente nella mia testa si è presentato subito come una specie di gigantesco pulcino, mannaro. Quindi ho dovuto trasformare quella vecchia illustrazione di cui andavo particolarmente fiero in un qualche cosa che fosse anatomicamente sistemato, perché ovviamente essendo una cosa vecchia di qualche anno fa, fosse anatomicamente sistemato ma anche ricoperto di questo piumaggio. e cosa succede? Quando ci si trova di fronte a questo tipo di problematiche la tecnologia ovviamente diventa il mezzo fondamentale perché si possano risolvere. E questo è il motivo per cui i paleontologi utilizzano i laser scanner per avere delle immagini tridimensionali dei reperti oppure fanno delle tac in modo da poter osservare l'interno del nostro fossile senza doverlo rompere o tagliare. Gli illustratori utilizzano Photoshop con i caratteristici livelli sovrapposti mentre le vecchie maquette, cioè quei modellini fatti in plastilina, vengono sostituiti dagli scultori da delle sculture fatte con i nuovi programmi di modellazione digitale tridimensionale, quindi modellazione 3D. È un lavoro estremamente complesso, minuzioso, che deve richiedere tanta pazienza e dedizione per cui non è raro che dopo tanto lavorare sulla texture di un animale il sottoscritto vada a dormire, chiude gli occhi e continui a vedere squame, squamine, squamette, punte, artigli, seghettature e tutto questo genere di cose. Però una volta raggiunto il proprio scopo, cioè aver finalmente realizzato il modello finale, si aprono degli scenari che possono dare spunto a delle iniziative che non sono propriamente scientifiche che però danno anche grande soddisfazione e divertimento a chi tanto tempo ha passato su questi soggetti. I paleontologi hanno a disposizione del materiale straordinario. materiale assolutamente incredibile come è il piccolo Ciro, cioè lo Scipionix samniticus, quel piccolo dinosauro che è stato trovato vicino a Pietrarroia, che è un cucciolo. Lo sappiamo perché le proporzioni del corpo ce lo dicono, ha gli occhi molto grandi rispetto alla testa, c'è addirittura la fontanella aperta, proprio come i bambini. sappiamo che cosa ha mangiato, perché la fossilizzazione è talmente incredibile che si vedono persino gli organi interni, è un caso unico al mondo. E all'interno di questi organi sono state trovate delle zampine che corrispondono a quelle di una piccola lucertola. sappiamo dove viveva in un ambiente simile a quello delle odierne Bahamas, qui ce lo dicono i sedimenti. Non sappiamo com'è morto, e questo rimane un mistero, ma è attraverso la rappresentazione artistica che noi possiamo continuare a sognare, immaginare qualche cosa che alla fine resterà ignoto. Grazie.